Se ti piace la frutta Allora come prima cosa in assoluto Andrei a prendere gli energy drink Anche perchè sembreranno delle Chiamiamole stronzate Però poi ci serviranno più avanti E vedrete perchè Quindi mi metterei all'opera E il primo si trova qui Proprio easy 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 Uno Poi Scansati grazie Ecco il secondo Quanta vemenza Li getta fuori Il terzo dovrebbe essere qui Se non vado errato Esattamente E il quarto A posto Sono quattro gli energy drink In tutto il capitolo Quindi adesso siamo Completamente a posto E vi ripeto Poi capirete perchè li ho presi Tutti e quattro In tutto il momento Tantale Grazie a tutti Grazie.